Bentornati su Dogfather, il video blog di informazione a 6 zampe dedicato a quelli come noi che amano i loro cane più di loro stessi. Ho una domandona da farti oggi. Quali sono i fattori più importanti per far vivere il tuo peloso più a lungo, felice e cantento? Ecco le 10 parole chiave che non possono mancare nel tuo dizionario da cani. Alimentazione. Scegli solo crocchette, scattolette e snack sani e naturali. Informati bene sul fornitore, sulla provenienza e sugli ingredienti e prediligi prodotti certificati bio. E se vuoi davvero fare il salto di qualità, ma ciò esige tempo, dedizione e competenze, la soluzione è la cucina casalinga. Prevenzione. Proteggi il tuo pet da malattie, infezioni, insetti e parassiti. Informati sempre di quale prevenzione profilassi si rende necessaria in funzione del luogo in cui vivi o del luogo dove ti recchi in vacanza. Confrontati sempre con il tuo veterinario e mi raccomando rispetta sempre le date che sono fondamentali. Igiene del corpo e della casa. Pulisci quotidianamente e con attenzione le sue parti più sensibili come occhi, orecchie, zampette e pelo. Con prodotti 100% naturali. E per i pelosi metropolitani che vivono in casa la maggior parte del loro tempo, usa detergenti ecologici e biodegradabili per pavimenti, tappeti, divani e letti, che sono i luoghi dove il tuo quadrupede passa la maggioranza del suo tempo. Educazione. Trova il modo di capire e farti capire dal tuo pet. Perché quando la comunicazione non funziona è davvero una brutta bestia. Pochi comandi come vieni, fermo, seduto, terra, sono essenziali tanto per la convivenza quanto per la sua sicurezza. Ed in particolare quando vivi in città. Attività fisica. Il movimento è fondamentale per mantenersi in forma, per non impigrirsi e per non metter su la pancetta. Che sia una passeggiata al parco, una corsetta, una scampagnata o una scarpinata in montagna. Va bene anche lo shopping se vuoi. Muoviti, muoviti più che puoi. A sei zampe. Socializzazione. Mi raccomando, trova il tempo per incontrare altri animali a due e a quattro zampe. La vita sociale è importante per entrambi. Perché è un momento di stimolo, di confronto, di gioco, di apprendimento e anche di piacere. Attenzione. Mi raccomando, tanta attenzione quando giri e viaggi con il tuo cane. Non bastano sei zampette, ci vogliono anche sei occhi. Attento alle schifezze che ci sono a terra, attento al clima, attento ad altri cani, attento ad altre persone, attento alle auto, alle moto, alle bici e soprattutto non farti distrare dal tuo cellulare. Rispetto. Non ti dimenticare che il tuo compagno di vita a quattro zampe è un animale. Rispetta dunque la sua natura e non cercare di umanizzarlo chiedendogli cose per lui innaturali. E mi raccomando, rispetta sempre le buone norme di convivenza e dai sempre e per primo il buon esempio. Perché purtroppo non tutti amano gli animali e quel tipo di persone per ritorsione potrebbero diventare cattive e fare cose molto cattive. Amore. Se non sei pronto ad amarlo in modo assoluto e per sempre. Come fosse un figlio, un fratello. Ascoltami con attenzione. Non prendere mai un cane. Non comprarlo, non adottarlo. E se esiste anche solo una condizione per cui te ne debba sbarazzare. Come lavoro, maternità, problemi economici o qualsiasi altra scusa. Non essere egoista e lascia perdere. Sei ancora in tempo. Al massimo scegli un pesciolino rossa. Perché il tuo amore per lui è tutto. Se lo abbandoni gli toglie la vita. E per finire dogaderness. Un termine di fantasia che significa vivere insieme. In simbiosi. Ha sei zampe. C'è poco da fare. Il fiuto e la sensibilità del tuo cane sono molto più sviluppati. Sono incredibilmente più sviluppati dei tuoi. Loro possono sentire tutto. Anche lo stato d'animo. Se hai paura. Se stai male. Se sei in ansia per il lavoro. Se sei arrabbiato. Loro lo sanno. Un motivo in più per concentrarti sulle cose più belle. Su quelle che ti fanno star bene. Nel tuo bene e nel bene del tuo pet. Siamo arrivati alla fine di questa pillola video. Fanne buon uso. E soprattutto fai del tuo meglio per migliorare la salute e la felicità del tuo compagno di vita a quattro zampe. E credimi. Così facendo a sei zampe anche la tua vita sarà molto più bella. E se sei d'accordo col mio pensiero ti prego condividilo con i tuoi migliori amici e aiuta anche loro a migliorare la propria vita a sei zampe. Tutto questo è gratis perché la salute e la felicità del tuo peloso non hanno prezzo. Ti auguro una vita fantastica.